tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale tutto si decide oggi ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta uno schema dopo l'altro fino alla disfatta siamo all'inferno adesso signori miei credetemi e possiamo rimanerci farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta io però non posso farlo per voi sono troppo vecchio sapete col tempo con l'età tante cose ci vengono tolte ma questo fa parte della vita però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri e così è il futbo perché in entrambi questi giochi la vita il futbo il margine di errore ridottissimo capitelo mezzo passo fatto un po in anticipo in ritardo e voi non ce la fate mezzo secondo troppo veloce o troppo lenti e mancate la presa ma i centimetri che ci servono sono dappertutto sono intorno a noi ce ne sono in ogni break della partita ad ogni minuto ad ogni secondo in questa squadra si combatte per un centimetro in questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro ci difendiamo con le unghie con i denti per un centimetro perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale e allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta la differenza fra vivere e morire e voglio dirvi una cosa in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro e io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro la nostra vita è tutta lì in questo consiste e in quei dieci centimetri davanti alla faccia ma io non posso obbligarvi a lottare dovete guardare il compagno che avete accanto guardarlo negli occhi io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui questo è essere una squadra signori miei perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente è il football ragazzi è tutto qui allora che cosa volete fare è tutto qui Grazie a tutti